Il premio scolastico comunque... Consegnato il 27 agosto in piazza San Nicola a Lauria, il premio Giuseppe Carina D'Auria, giunto quest'anno alla sua quinta edizione. A ritirarlo Claudia Cantile, giovane di Lauria, che ha elaborato il progetto come allevare numache nel Lago Negrese a fini alimentari. Altri quattro riconoscimenti sono andati ad Anna del Duca, Lucia Pastoressa, Erika Pittella e Domenico Bloisi di Lauria e Pierdomenico Deodati di Lago Negro. Questo premio, pensato per i giovani del Lago Negrese, vuole incoraggiare gli stessi affinché si adoperino per lo sviluppo della zona e per l'incremento dei posti di lavoro.